Roberto Simonetti, ancora una volta il Governo dice di no ai concorsi regionali proposti dalla Lega Nord, perché voi invece insistete? Noi abbiamo insistito come sempre con l'amendamento storico della regionalizzazione dei concorsi per il pubblico impiego legato al mondo della scuola. C'è un valore di merito e un valore di metodo. Il valore di merito è che chi ovviamente vive al Nord può insegnare le piccolarità del Nord, delle piccolarità della sua regione che dovrebbero anche diventare materia formativa degli alunni. Per quello di metodo è che ogni anno a inizio anno scolastico non ci sono i professori perché le graduatorie vengono formate a pettine in riferimento ai punteggi che ogni insegnante ha. Tipicamente purtroppo in meridione hanno dei punteggi più elevati degli insegnanti del Nord e pertanto questi si trovano sempre in coda alla possibilità di diventare stabilizzati, quindi a tempo indeterminato. Noi vogliamo che i futuri concorsi siano fatti a livello regionale per dare stabilità a un sistema che richiede stabilità, che è quello dell'insegnamento dei nostri figli e delle future generazioni. Non possiamo permetterci che iniziano a scolastico, ci sono sempre le cattedre vuote o cattedre coperte da chi dopo 15 giorni ritorna al paesello perché vuole appunto solo prendere lo stipendio e non insegnare.